La libertà di insegnamento è sancita dall'articolo 1 del Decreto-Legge 297 del 1994, che afferma che ai docenti è garantita la libertà di insegnamento come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. Anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea viene affermato che c'è uno stretto legame tra libertà di pensiero e di insegnamento. La libertà di insegnamento diventa così uno strumento attraverso il quale dare importanza alla libertà e ai diritti del discente. Esattamente come il diritto dell'istruzione, anche la libertà di insegnamento è laica, ovvero non confessionale e ideologizzata. Iscriviti al nostro canale YouTube.